Allora Adriano, uno è cliente Enel, appassionato di ciclismo, è un bel giorno? È un bel giorno, partecipa a un concorso nel premio e si trova a una bellissima sorpresa nella casella mail Hai vinto un accredito per due persone per partecipare a una tappa del centesimo giro d'Italia Lo slogan di Enel quest'anno è entra nel giro più dentro di così Sì, sicuramente sì, sono molto contento di partecipare a questo evento, in questa bellissima giornata, in questa splendida cornice di Firenze, di Piazzale Michelangelo, che chiedere di più? La tappa l'hai scelta tu, hai un ciclista di questo giro nel cuore? Sì, io spero che riesca nell'impresa anche quest'anno Vincenzo Nibali Hai una compagnia energetica nel cuore? Sicuramente sì, l'Enel Enel ti premia con la maglia rosa La tappa l'hai scelta La tappa l'hai scelta Del futuro